Finanziato per oltre 4 milioni di euro dalla Regione Campania, il progetto di fattibilità tecnica del nodo intermodale di Napoli. Come sottolineato dal Presidente della Quarta Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, dal Presidente Eav Umberto De Gregorio, si tratta dell'inizio di un percorso guidato dalla Regione Campania e orientato al rilancio del cuore pulsante del capologo campano. Attraverso la riqualificazione di Piazza Garibaldi, porta d'ingresso della città di Napoli e una maggiore integrazione tra il sistema del trasporto pubblico e la rete nazionale su ferro. Tra gli interventi che saranno previsti nel progetto, la realizzazione della copertura del fascio binari del Terminale Eav di Porta Nolana e del collegamento pedonale con Piazza Garibaldi, futuro terminale della linea circunvesuviana. L'autorità di sistema del Martirreno Centrale ha avviato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori della riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli Nuovo Terminal Passeggeri alla Calata Beverello, che sarà finanziato con fondi propri dell'autorità con 17,9 milioni di euro. I tempi previsti per i lavori 12 mesi. Il progetto riguarda un'area della superficie di 2.400 metri quadrati e prevede la realizzazione di una nuova stazione marittima sulla cui copertura vi sarà una passeggiata che, partendo da via Acton, arriverà con un salto di quota all'imbocco del piazzale Angioino. Successivamente si interverrà a mare con la costruzione di pontili per l'attracco degli aliscafi, mentre sulla banchina saranno migliorati gli attuali gate che regolamenteranno l'accesso agli imbarchi. Linea dura della NM contro il blocco a sorpresa di funicolari provocate da malattie di caposervizi nel weekend. L'azienda napoletana Trasporti ha avvarato le contromisure con lo spostamento dei dipendenti tra gli impianti per garantire almeno il funzionamento di qualcuno e fare forzate per il personale superfluo. Tra vacanze e malattie improvvise, infatti, in particolare nell'ultimo periodo, le funicolari cittadine sono a continuo stop. Una soluzione logica, la definita il nuovo amministratore di NM, Nicola Pascale, che punta a gestire le emergenze, che, si spera, non si verifichino ancora. Estate di passione per gli avellinesi costretti in città per tutto il mese di luglio, il capologo Irpino sarà interessato da una serie di mini cantieri in un ampio piano di intervento di manutenzione straordinaria delle principali strade cittadine, dal centro alla periferia. I lavori di rimozione e ripristino dell'asfalto cambieranno il look di circa 34 mila metri quadrati di strade e saranno lavori accorpati in tre lotti per un importo di 1,2 milioni di euro. Normale conseguenza la modifica del piano traffico e lo spostamento dello stazionamento dei mezzi pubblici. Manto stradale insicuro e a tratti dissestato è preoccupato il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Aloia sullo stato della strada provinciale 430 Cilentana. Così ha indirizzato una missiva all'amministrazione provinciale di Salerno per chiedere provvedimenti urgenti e salvaguardare la sicurezza degli automobilisti. A preoccupare soprattutto il tratto tra Vallo della Lucania e Vallo Scalo, dove secondo il primo cittadino si sarebbe davvero al limite delle condizioni di sicurezza per un'arteria che specialmente in estate è frequentatissima dai vacanzieri. Muoversi in Campania partecipa al Giffoni Film Festival con l'obiettivo di coinvolgere i giovani sui temi della mobilità e della sicurezza stradale. Interviste, contenuti, speciali, convegni. Tutto questo sarà Muoversi a Giffoni. Muoversi in Campania offrirà inoltre la possibilità ai ragazzi di assistere alle attività della redazione e diventare loro stessi protagonisti dei notiziari in diretta. Appuntamento dunque a Giffoni di scena dal 20 al 28 di luglio.